La guardia di finanza della sede operativa navale di Chioggia è intervenuta martedì sera per il salvataggio di un settantenne che è rimasto incagliato con la propria imbarcazione, un veliero di 10 metri, sulla diga soffolta di Sottomarina nei pressi della foccia del Brenta, lato nord. L'imbarcazione è rimasta bloccata e nei prossimi giorni si procederà con le operazioni per il disincaio e il rimorchio. La diga soffolta è una delle infrastrutture costruite per difendere il litorale dalle mareggiate, sempre più frequenti. Purtroppo non è particolarmente visibile ma è segnalata sulle carte nautiche. È essenziale per un comandante in un'imbarcazione consultare le carte nautiche aggiornate o gli avvisi ai naviganti prima di impostare qualsiasi rotta. Comunque fortunatamente le previsioni meteo dei prossimi giorni non prevederebbero peggioramenti e quindi tutto si dovrebbe risolvere per il meglio. Si tratta del secondo salvataggio effettuato nella gara di finanza nel giro di pochi giorni. Domenica scorsa, come ricorderete, era stato soccorso uno yacht e bimotore di 39 piedi che aveva iniziato a imbarcare acqua mentre si trovava a largo del porto di Chioggia. A bordo dell'imbarcazione si trovano sette persone, tra cui due bambini. Un equipaggio della guerra di finanza a bordo del VAI 304 era intervenuto tempestivamente effettuando una riparazione provvisoria a un manicotto che perdeva, risolvendo così la via d'acqua e ristabilendo la stabilità dell'imbarcazione. Il motoscaffo ormai stabile è stato poi scortato dalla guardia di finanza fino a Darsena San Felice dove è stato poi sottoposto ai controlli necessari. Buongiorno, sono Roberto Piccerato, presidente di Ioda, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabrocker.it